Si chiama Shabo ed è una metanfetamina purissima costituita da minuscole palline in odori e in sapori. Il suo prezzo al grammo può raggiungere anche 500 euro e da ogni grammo se ne possono ricavare fino a 24 dosi. Ne sono state rinvenute e sequestrate 22 fialette pronte a essere immesse nel mercato oristanese durante una perquisizione a Masullas nel corso dell'operazione Melograno. Un'indagine altamente complessa hanno spiegato ieri gli inquirenti nel corso di una conferenza stampa che ha portato all'esecuzione di 11 arresti per spaccio di droga oltre che per traffico di banconote false. La metanfetamina scoperta a Masullas avrebbe fruttato quasi 20.000 euro se immessa sul mercato. Il procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, coordinatore dell'inchiesta in cui hanno collaborato le forze armate sarde con quelle campane, ha sottolineato che si tratta di uno stupefacente a basso costo, in grado di causare danni gravi e devastanti a chi ne fa uso. Finte serre fotovoltaiche. Le truffe milionari in Sardegna continuano. Un impianto di serre tra Donigale e Solanas, utilizzato per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici, è finito nell'inchiesta seguita dalla Guardia di Finanza di Sassari, che ha portato alla luce una presunta truffa. I militari, coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Parma, Giuseppe Amara, hanno sequestrato denaro e immobili per 7 milioni di euro, di proprietà di tre società agricole, Auristano, Cheremule e Bonannaro, e denunciato i rispettivi rappresentanti legali. Gli impianti erano stati classificati come serre al solo obiettivo di beneficiare delle agevolazioni destinate al settore agricolo. Secondo la Guardia di Finanza, nella realtà attuale, le serre non erano funzionali a nessuna attività agricola, ma erano utilizzate esclusivamente per la produzione industriale di energia elettrica, e i rappresentanti delle società si sarebbero totalmente disinteressati della coltivazione del terreno. Uno stratagema che ha permesso alle tre società di vedersi assegnare incentivi pubblici erogati dal gestore per i servizi elettrici. L'ipotesi del reatto contestata alle tre società sarde è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'importante operazione ha visto il coinvolgimento dei reparti delle Fiamme Gialle di Milano e Terni, oltre che di Sassari. Sotto la lente di grandimento la temutissima tassa sui rifiuti. Fin dall'anno di istituzione della Tari, il Comune di Ristano applica correttamente la quota variabile della tariffa. Nei casi in cui vi siano una o più pertinenza, la quota variabile è associata una sola volta all'intera utenza. Lo ha dichiarato l'assessore ai tributi Massimiliano Sanna, dopo che nelle scorse settimane un'interrogazione parlamentare ha sollevato il problema dell'errata applicazione della quota variabile Tari da parte di molti enti locali italiani. Dal 2014 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si paga attraverso la Tari, così si legge in un comunicato diffuso dall'amministrazione comunale. Il tributo è diviso in due componenti, una quota fissa legata ai metri quadrati dell'immobile e una quota variabile legata al numero di componenti del nucleo familiare. L'errore di calcolo in cui sarebbero incorsi molti enti è derivato proprio dall'applicazione a ogni singola unità immobiliare fabbricato e pertinenza della quota variabile. I contribuenti oristanesi possono stare tranquilli, conclude il comunicato. Il servizio di entrate tributarie ha confermato la regolarità delle procedure adottate dalla Giunta. La povertà riguarda tutti e non possiamo permetterci di effettuare alcun spreco. Ha esordito così Monsignor Ignazio Sanna nel corso di un incontro che si è svolto stamattina all'Arcivescovado di Oristano, in cui si è siglato il protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Oristano nella persona del dottor Ezio Domenico Basso e la Caritas Diocesana Arborense, rappresentate appunto dall'Arcivescovo Sanna e dalla direttrice Giovanna Lai. Il protocollo mira la consegna e distribuzione di merci con marchio contraffatto sequestrate dalle forze dell'ordine, le quali, anziché andare distrutte, verranno appunto donate alle persone bisognose. Io lo considero un segnale che aggiunge dall'istituzione, in particolare dalla Procura della Repubblica come segnale di servizio nei confronti di quelle parti della società civile che sono più in difficoltà. Il discorso è molto semplice da un punto di vista giuridico e processuale. Questi sono beni che sarebbero destinati alla distruzione e quindi evitare uno spreco gratuito e aiutare invece con la distribuzione chi ne ha bisogno, ritengo che sia un modo per far sentire alla popolazione che lo Stato, in questo caso la Procura della Repubblica, è vicina a chi ne ha bisogno. Il tasso di povertà è in aumento, come ha spiegato la direttrice della Caritas. Nel 2016 si è registrato l'erdo incremento della popolazione con quattro categorie maggiormente svantaggiate. I giovani tra i 18 e i 34 anni, le famiglie con figli minori, i disoccupati e i nuclei di cui capofamiglia svolge lavori saltuali o a basso salario e poi nuclei stranieri e i ulisti. In Sardegna, con il 56%, figura tra i 10 territori dell'Unione Europea con il tasso di disoccupazione giovanile più alto, quindi è il 56%, e tra i giovanili dell'età tra i 15 e i 34 anni. L'obiettivo primario è mettere a confronto tutte le strutture ospedaliere nazionali. Secondo, un modello di valutazione è basato sulla rilevazione da parte dell'equipe locale di 142 elementi, contenuto in un apposito strumento di rilevazione omogeneo e condiviso a livello nazionale. E' partito dagli ospedali San Martino di Oristano, di San Gavino, Duilio Casula di Monserrato e microcitemico dell'azienda Abruzzo, il progetto della Genas, valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle cure, che vede coinvolti 45 pazienti di 37 associazioni appartenenti a Tramas, la rete dei cittadini in atta nel 2015 per l'iniziativa dell'assessorato della sanità. Si tratta di un'alleanza pazienti-operatori, si legge in un comunicato diffuso dalla regione. Cittadini informati aiuteranno il sistema a migliorare, facendo osservazioni, richiamando al rispetto di alcune procedure, segnalando di servizi in modo alternativo a quello classico dell'ufficio relazioni col pubblico. Non verrà fatta una classifica degli ospedali, ma una verifica del rispetto di tutti quegli aspetti che concorrono all'umanizzazione delle cure. Un lavoro che non resterà fino a se stesso, ma che dovrà essere condiviso con chi ha ruoli decisionali, dai direttori generali all'assessore stesso. Le rilevazioni nei nosocomi sardi si concluderà venerdì 15 dicembre. Qual è il presente e quale sarà il futuro della lingua sarda? A fare il punto della situazione è Diego Corraine, il presidente della SLS Sociedade Pro Salimba Sarda, in un'intervista rilasciata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. La Sociedade Pro Salimba Sarda è un'associazione culturale che ha una storia lunga. È nata nel 1987, ha avuto come presidenti due personaggi prestigiosi, il professor Massimo Pittau e lo scrittore Antonio Cosso di Santo Lussorgio. Per lungo tempo ha seminato in Sardegna la cultura dei diritti linguistici nei confronti della nostra lingua, l'idea che il sardo possa essere lingua ufficiale, riconosciuto, tutelato, promosso e diffuso nella scuola, nel territorio e nella società. Per molti anni i soci della società si sono disseminati nella cultura sarda, nella scuola, nei mezzi di comunicazione, cercando di difendere questi principi. Uno dei risultati più straordinari che noi abbiamo avuto è stata la legge 26 e la legge 482 dello Stato che ubbidivano le richieste fondamentali che erano già state poste nel 1987, ufficialità della lingua sarda. Adesso abbiamo iniziato una nuova storia per riproporre in maniera nuova e moderna l'idea che il futuro del sardo possa essere assicurato solo da una politica linguistica fattiva, seria, coerente e incisiva. Non basta più lottare per riconoscere le pari dignità, la dignità ce l'abbiamo di lingua, ma ci serve la pari opportunità. Quindi la cofficialità del sardo a collo italiano, ecco perché noi chiediamo che ci sia una nuova legge di politica linguistica che porti il sardo davvero nella scuola, nell'università, nell'amministrazione pubblica, anche nelle imprese private, perché no nella pubblicità, nella gestione delle imprese. Il sardo è un valore aggiunto straordinario. Poi l'altra cosa importante che vogliamo dimostrare è che in sardo abbiamo le parole. Una risposta a chi dice ma il sardo è una lingua vecchia, non ha le parole per la modernità, per la scienza. Noi vogliamo dimostrare che il sardo ha le parole per definire la realtà, per definire le realtà nuove, scientifiche, tecniche. Ha i nomi di persona, non dobbiamo ricorrere altre lingue, cioè Joan, Francisco, Diego, Badore, abbiamo i nomi di luogo. Diciamo che abbiamo le quattro caratteristiche fondamentali di ogni lingua, noi li abbiamo. Quindi si tratta semplicemente di esprimerle, di farle viaggiare nella modernità. L'altro aspetto fondamentale è che occorre molta divulgazione. Quattro anni fa era partito il processo nei confronti di due carabinieri di Mogoro con l'accusa di aver falsificato la documentazione dei loro orari di lavoro, costruito false prove, come finti alcol test e aver posizionato della droga nelle auto di alcune persone che volevano incastrare. Ieri è giunta la sentenza dei due militari definiti infedeli, Mario Arnò, condannato a due anni e nove mesi, e il collega Massimiliano Mazzotta, che dovrà scontare quattro anni e tre mesi. I due sono stati condannati inoltre al pagamento delle spese processuali. Spettacoli di corte e feste popolari in Sardegna e in Europa in età medievale moderna, protagoniste e società, due realtà a confronto. Questo è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Zasartiglia per sabato 18 novembre alle 17 nella sede dell'Archivio di Stato in occasione delle giornate della storia. L'evento ristanese della rassegna nazionale quest'anno è dedicato a un approfondimento dei tornei e delle corse a palio nel corso dei secoli. Il Comune di Ristano ha pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla gestione triennale dell'informa città. La giudicazione del servizio sarà effettuata a chi presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa partendo da una base d'asta di 496 mila euro. Per l'erogazione del servizio dovrà essere garantito l'impiego di un coordinatore e quattro operatori di sportello, l'apertura minima al pubblico da lunedì al venerdì e l'utilizzo dei social network e del sito internet. Gli interessati devono presentare domanda tramite l'apposito modulo entro le 13 del 29 novembre del 2017. Dopo vari incontri con i residenti di Donigala che chiedevano nuovi spazi all'interno del loro cimitero e la sistemazione dell'intera area, è stato approvato ieri 14 novembre dalla giunta Luzzo il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova batteria di 60 loculi destinata a garantire tutte le esigenze della frazione. A ciò si aggiunge il potenziamento dei giorni e degli orari di apertura dei cimiteri non solo di Donigala ma anche di Sili, Massama e Nuragini e Edu. Sono stati stanziati per il lavoro 60 mila euro. Per consentire l'attuazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Figoli, a partire da domani giovedì 16 novembre sarà istituito il divieto di circolazione nell'ultimo tratto della via, cimiteria, quello compreso dall'incrocio con via Verdi e la piazza Roma. Sarà garantito il passaggio in sicurezza dei pedoni mentre le linee del trasporto pubblico urbano potranno subire delle deviazioni. La chiusura al traffico sarà limitata all'orario di lavoro dell'impresa dalle 7.30 alle 17.00. Giovedì 16 novembre presso il teatro Grazia dell'Eda di Paoli Lattino avrà luogo lo spettacolo Cipollino. Le marionette a filo del teatro Tagges abitano la colorata Bancarella nella quale Cipollino e sui compagni di avventura, le centri con musicista per opera, lo salunato signor Zucchina e il saggio Cipollone sfideranno lo spietato Toro Gigetto e le patatine. Guardia al soldo di Mr. Eustel. Domani 16 novembre verranno effettuati i lavori di riparazione dell'acquedotto Sarcidano al servizio di San Mugeo, Ruinas e Allai. Le squadre avvieranno i lavori a partire dalle 8.00 del mattino senza però causare alcun disservizio all'utenza grazie alle scorte nei serbatoi. La riparazione si è resa necessaria e urgente per evitare il peggioramento delle condizioni della tubazione che in caso di mancata riparazione rischierebbe di causare problemi nell'erogazione dei centri interessati, a partire dal comune più vicino, San Mugeo. Da qui la necessità di una programmazione tempestiva è dettagliata dell'intervento. Variazioni di portata e pressione potranno verificarsi sia nella giornata di domani sia nella giornata di venerdì 17 in conseguenza delle variazioni di livello dei serbatoi. Grazie per la visione!